Alla sirena il tabellone sentenzia Pesaro 88, Fortitudo Bologna 87. Un'altra pazzesca vittoria di misura a distanza di tre giorni dall'analogo successo con Sassari per la terza vittoria consecutiva che fanno 12 in stagione. Numeri robusti convogliati in una classifica da 24 punti che significa mettere uno sguardo concreto sui play-off e mettere una mano e quattro dita sulla salvezza a quattro partite dalla bandiera a scacchi della regular season. Ma scaldare la vitrifigorena è stato soprattutto un altro numero, quello dei 4963 spettatori, record stagionale dell'astronave per un vero mercoledì da Leoni concluso nella maniera più gratificante per i tifosi. Che si sono riversati in campo ebbre di gioia dopo una vittoria in rimonta all'ultimo secondo contro i rivali di sempre inchiodati ad una salvezza sempre più lontana. Quell'obiettivo stagionale invece è sempre più vicino per una VL che, come contro Sassari, è costretta a inseguire una fortitudo che va in fuga fino ad un più 12, ma Pesero non demorde e sembra trovare ulteriore stimolo dall'inattesa espulsione di banchi, risalendo la china e arrivando al sorpasso finale col 2 su 2 dai liberi di Carlos Delfino. Io penso che stasera questi ragazzi abbiano dato ai nostri tifosi un motivo in più per essere orgogliosi dello sforzo che stanno producendo e la possibilità di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Io immaginavo che Bologna sarebbe venuta qui a fare una partita di altissimo profilo, altissimo livello, perché è la loro classifica che lo impone. E comunque si parla di giocatori, avete constatato anche stasera, roster di grandissimo talento e quando trovano queste serate è veramente difficile arginarli, poi giocando una pallacanestro così aperta, con tanti potenziali scorer, non ci siamo abbattuti, siamo rimasti lì e la partita, la prestazione per certi versi ricalca quella di soli tre giorni fa. Abbiamo costruito la nostra rimonta con una difesa ancora più aggressiva, con una costante presenza a rimbalzo che ci ha permesso di dominare su entrambi i tabelloni, con Jones assoluto protagonista e con lui e Carlos che non si sono seduti un solo istante per l'intero secondo tempo. Considerato che solo 72 ore fa eravamo qui a batterci, devo fare un plauso a questi ragazzi per la dedizione che mostrano e a tutto lo staff che sta facendo con loro lavoro egregio e stasera credo sia stata premiata anche la capacità di gestire questa, faccio mea colpa, ma sorprendente espulsione. Mi fermo a questo per non incappare in provvedimenti che non farebbero bene a nessuno in questo momento. Prima di congedarsi ad una Pasqua che sarà comunque col sorriso, il campionato chiama ad un ultimo sforzo ravvicinato, ai limiti del sostenibile con la capolista Virtus Bologna che sabato completerà il trittico ravvicinato di gare consecutive alla Vitri Frigo Arena. Credimi non so come ci arriveremo e con chi ci arriveremo perché onestamente ci sono giocatori che noi stiamo esponendo al rischio che piccoli infortuni possano diventare infortuni più importanti e produrre certi sforzi a distanza così ravvicinata. Quindi si preannuncia una partita che già era complicata per una squadra come noi necessitava avere almeno sette giorni per poterla preparare adeguatamente.